Ciao amici benvenuti nel mio canale Guarda e Impara. Ande Ercel, che condivide il ruolo principale con Burak Deniz nella serie Bambas Kabiri, è diventata il bersaglio delle critiche sui social media per la sua recitazione. Burak Deniz, avvistato ad un evento, ha parlato della performance della sua coprotagonista nella serie. Ande Ercel, che da tempo ha una felice relazione con l'imprenditore Arkansas Bank, fa spesso notizia. Ercel, che interpreta un ruolo nella serie Bambas Kabiri, è una delle figure di spicco con la sua bellezza e capacità di recitazione. La ballerina orientale di Demnall aveva preso di mira Ande Ercel nelle ultime settimane, dicendo, prima di tutto voglio sottolineare una cosa. Ande Ercel ha molti seguaci ed è anche popolare. Non capisco perché sia popolare. Non lo so. Non so il motivo. La recitazione è zero, inesistente. Mi scuso, bella ragazza. Questo è tutto. Burak Deniz, che condivide lo schermo con Ande Ercel nella stessa serie, è diventato il volto di un marchio di abbigliamento. Partecipando a un evento per il marchio, Deniz ha parlato della performance della sua coprotagonista Ande Ercel nella serie. Burak Deniz, che ha anche dovuto affrontare critiche per la sua recitazione, ha commentato Ercel, dicendo, anch'io sono criticato. Anche altri miei amici sono criticati. Anche Ande è criticato. Questo accadrà. Dal punto di vista di un estraneo, Ande e io siamo insieme sei ore su ventiquattro. Dato che siamo costantemente insieme, non c'è niente da criticare. Voglio dire, non c'è niente che io possa vedere da criticare. Deniz, che si dice fosse con Vestem su Osdemir, ha dichiarato di sì. Attualmente non ha nessuno nella sua vita. Deniz, che è stato visto in intimo. Momenti con Osdemir durante un evento, ha detto, se ci fosse un cambiamento importante. Vita mia, sarai il primo a saperlo. Trascorro il tempo con molti amici. In molti eventi. Ho anche trascorso del tempo con Vestem su.